Ciao a tutti ragazzi questa volta sono sempre il vostro caro Excalibur Oggi iniziamo con Lady Indiana Jones Prima di più per iniziare Nuova partita? No Carica partita Nuova partita Si vai all'avventura Salva partita Ok Vuoto Andiamo in questo Faccia si ovviamente Ok Vai Questo è il primo di Lady Indiana Ragazzi c'è un piccolo problema Il padre mio E Ecco Poi Papi Mi fa caso Ragazzi scusate ma Dov'è venire un attimo di pazienza mio papà Ecco Adesso siamo ricominciati Oh Adesso va meglio vai E Tiriamo su Inizia la storia Vado Qua Qua Si vedrà le prime cose Ho visto che non c'è il vaso Non c'è il vaso E sparito il vaso E Sparito il vaso Vanno a piedi Vanno a piedi Finché Non arrivi E siamo qui Premici per cambiare personaggio Ecco Possiamo scegliere i vari uomini Qui Qua c'è una banana Ma per chi Ma per chi serve 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 Oh scusa Come faccio a raccoglierla Ecco Beh adesso ve lo spiego Ma per chi serve Per questa scimmia Ecco a te la banana Ecco la banana Vai Indiana Jones E te Arrivati al treno Sono arrivati al treno Dove la storia continua Indiana Jones E lui Si fanno dritti Alla storia Di Indiana Jones Scava 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 Oh no Ma chi è stato? Ma chi sia stato? E' uno scogliattolo 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 Ancuni in macchina sono fuori dal video Sono fuori già Non sono fuori già Non sono fuori già E sono arrivati Qui Le guardie Si arrangiano dei gelati Ed ecco lui Lo spazzatino In pratica non si chiama spazzatino però Le casse che vedete lì Sono giuste Proprio giuste Ed eccoci qua E' bello combattere Si si tutto è bello Tutto è bello Allora Puoi trovare casse Ah tipo questa Allora 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 Guardate un attimo L'Indiana Jones E' un grande indiana Jones E' un grande indiana Jones Pucciallazzo Vuol dire che non è Che è il pieno Ah Posso salire sulla corda Allora Allora Spero lì Spero lì non ci possiamo andare 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 Come si costruire Come si costruisce Oh mamma Oh mamma Oh mamma come si costruisce No dai come si costruisce No come si costruisce No dai No come si costruisce No come si costruisce No dai Impostibile che non mi ricordo Dai il postibile che non mi ricordo Allora Come si costruisce Allora Eh ma Mac Ma si costruisce Ma dai Impostibile Non mi ricordo Come si costruisce Mac Bel nome Mac Sì Te l'ho messo lì Che te lo volevo chiedere Noi no 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 E' troppo piano Dai ma come Indiana Jones Ma è impossibile Oh con Z Oh ma dai Adesso è finito l'episodio Ciao Sempre dal vostro SkyBot Ciao